Benvenuto in MPS Monitor, la soluzione più completa per il monitoraggio e la gestione remota di stampanti e multifunzioni. Questo breve tutorial ti aiuterà nel facile processo di creazione di un cluster di connettori Explorer. La creazione di un cluster aumenta l'affidabilità del processo di lettura dei dati, grazie alla ridondanza dei connettori. Per ottenere questo risultato è necessario installare due o più connettori Explorer sullo stesso cliente. Dopo aver installato il primo connettore, da un altro PC del cliente avvia il download del secondo connettore, cliccando sul tasto arancione Connettore Windows, oppure sull'apposito link nella mail di proposta installazione. Puoi ripetere questa operazione varie volte su diversi PC dello stesso cliente, purché tutti i PC abbiano accesso via rete alle stampanti da monitorare. La procedura di installazione è la stessa del primo connettore. Per dettagli puoi consultare il tutorial relativo alla creazione e installazione del primo cliente. A Installazione avvenuta, vedrai comparire il nuovo connettore del nuovo PC, evidenziato dal colore giallo. Adesso, per creare il cluster, clicca sul pulsante Crea un cluster con questo connettore. Ora, seleziona il connettore che vuoi impostare come secondario. I connettori secondari sono delle installazioni che entreranno in funzione nel momento in cui il connettore primario smetterà di comunicare a causa di blocchi, formattazioni, spegnimenti o cambio di PC. Dai un nome al cluster appena creato e clicca su Salva. Ritornando sulla pagina del connettore potrai vedere gli altri computer all'interno del cluster. In questo caso è solo uno, ma ricordiamo che possono anche essere più di uno, se hai effettuato numerose installazioni del connettore nella rete del cliente. In caso di interruzione del funzionamento del connettore primario, uno dei connettori secondari prenderà il suo posto, diventando primario e associandosi le configurazioni Explorer. Questo avviene in modo totalmente automatico e senza alcuna operazione manuale da parte dell'operatore. Grazie per aver seguito questo tutorial di MPS Monitor.